Un piccolo muro di Berlino, così viene definita e vissuta dai residenti della frazione di Sassa Scalo l'eliminazione del passaggio a livello, parte del progetto che Ferrovie dello Stato ha avviato a livello nazionale modificando la viabilità di molte piccole realtà locali. Un muro di Berlino che divide la popolazione di uno stesso territorio in due, che dilata le distanze allontanando zone in realtà vicinissime, penalizzando soprattutto i commercianti che nel giro di pochi mesi hanno visto crollare e denunciano in alcuni casi fino al 50% i loro fatturati. Una situazione drammatica quella che denuncia nei residenti di Sassa, dove qualcuno ha dovuto persino rinunciare alla propria attività commerciale, come Adele Ciccani, titolare insieme al marito di una storica pizzeria adesso aperta soltanto per pochi giorni alla settimana. Nessuna risposta dal comune e dal sindaco Biondi, al quale due mesi fa Adele ha mandato a nome di tutti i residenti una lettera accorata. La chiusura del passaggio a livello purtroppo ha creato dei danni sia a noi residenti che a noi titolari di attività. Questa strada veniva utilizzata da tutti i paesi circostanti, Sassa, Pagliare, Gensano, Colle Sassa, Poggio Santa Maria. Adesso è un vero muro di Berlino e noi stiamo pagando veramente le conseguenze. Noi come titolari di attività abbiamo sospeso per qualche mese anche l'attività, adesso abbiamo ripreso, però aprendo soltanto tre giorni a settimana e anche come residente subisco e subiamo questi danni. Io ho un supermercato di fronte e ho difficoltà ad andarci. persone anziane vanno al supermercato utilizzando il sottopassaggio pedonale che adesso è tutto innevato perché con la macchina ci vorrebbe più tempo e quindi si sono attrezzati con mezzi alternativi. Guardi, io personalmente ho mandato una lettera al sindaco che purtroppo non mi ha ricevuto e io nella lettera scrivo perché non riaprire questo passaggio togliendo il treno che purtroppo non viene utilizzato da nessuno. Guardi, se lei viene vede che nel treno c'è soltanto l'autista. Quindi ho proposto, togliete il treno, mettete un'auto sostitutivo come c'è nel periodo estivo e risolviamo questo problema.